La questione dell'eco piazzola di quartiere San Vito a Bassano è diventata un vero e proprio caso politico, soprattutto in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Centinaia le firme raccolte dai cittadini, preoccupati non solo per la realizzazione del punto di conferimento dei rifiuti che dovrebbe sorgere nell'area di sgambamento cani, ma anche per la possibile sospensione della raccolta porta a porta. Ieri sera una delegazione di residenti si è presentata all'incontro con i candidati sindaco. Nella nostra petizione ci sono quattro punti chiave, quattro domande al futuro sindaco che sono quelle di eliminare l'eco piazzola dall'area sgambamento cani o giardino servito, di mantenere l'area verde e vincolarla come tale, di non eventualmente girare la voce che qualcuno la voleva spostare, noi vogliamo che resti lì dov'è e poi ovviamente la cosa forse più importante che è implicita da tutte le altre tre che non venga tolta la raccolta porta a porta dei rifiuti a Bassano, anzi in quartiere San Vito in questo momento perché lì ci sarà l'eco piazzola, ma è chiara la volontà dell'Etera di toglierla da tutto Bassano obbligando i cittadini a portare la sportina nelle varie ecco piazzole che verranno piazzate in giro per Bassano. Questo è solo l'inizio. I residenti non hanno nessuna intenzione di mollare, chiedono ai candidati sindaco un impegno formale per bloccare la realizzazione dell'eco piazzola. Ogni settimana 100-200 firme, quindi è più di un mese che andiamo avanti e continueremo ad oltranza fino a che questa storia non verrà definita come chiedono i cittadini del resto.